Rischi sulla strada provinciale 39 di Larderia da ieri sera ristretta ad una sola corsia per motivi di sicurezza dopo che fango e pietre sono piovuti su un'auto in transito. Conseguenze non gravi per la conducente che comunque ha fatto ricorso alle cure in ospedale. Il consigliere del terzo quartiere Mario Crotogini chiede adesso interventi urgenti per la messa in sicurezza dell'unica strada al servizio di molte zone abitate di Larderia ed in particolare della contrada Bonfiglio. La provincia regionale di Messina, ricorda il consigliere, aveva promesso l'installazione di una rete protettiva per arginare eventuali frane ma l'intervento di messa in sicurezza ancora si attende. L'episodio di ieri ha prodotto l'avviamento di accertamenti tecnici sulla tenuta del costone confinante con la strada. Ancora una volta gli interventi emergenziali prendono il posto di quelli preventivi.